Quante probabilità di chiudere questo fine settimana? È difficile adesso per questa settimana, dipenderà, ecco, la percentuale quanto riguarda una chiusura positiva per questo fine settimana dipende dall'approccio. Se sarà un approccio costruttivo che non perde vista la dimensione politica della decisione che assumeremo, chiuderemo senz'altro. Se invece qualcuno dovesse perdere vista questa dimensione politica, dovesse metterla giù come una partita contabile, quindi immiserendola completamente, allora sicuramente avremo bisogno ancora di lavorare. Presidente, la posta in gioco? La posta in gioco è l'Europa, non è una pronta ripresa per l'Italia soltanto per la Spagna, il Portogallo, la Francia e gli altri paesi, è una pronta ripresa per l'Europa. La posta in gioco è la leadership europea, la competitività dell'Unione Europea nel mondo globale. Quindi se noi pensiamo che stiamo a discutere di qualche miliardo in più o in meno, di qualche condizionalità in più o in meno, chiaramente perderemo la sfida della competizione con la Cina, con gli Stati Uniti, con il mondo globale.